I moduli Google sono composti da sezioni. Queste possono essere aggiunte o cancellate. Sono possibili anche altre operazioni di editing come duplica, sposta e unisci. Grazie a questo menu a tendina possiamo cambiare l'ordine di scorrimento delle sezioni, un po' come abbiamo visto con i link in Google Presentazioni. Dal momento che possiamo scegliere solo una sezione per il dopo non possiamo creare delle vere ramificazioni o biforcazioni. Quest'ultime sono realizzabili grazie alle domande che vedremo nel prossimo video.